Cose veramente di varie persone e la domanda è perché questo? Cosa ti ispira? Da dove deriva questa tua ispirazione? Intanto è importante dire che tutta la mia arte ruota attorno ai concetti di tempo, spazio, uomo e natura. Przede wszystkim chcę powiedzieć, che tutta la tua sztuka si tratta di un concetto come un tempo, spazio, uomo e natura. Cias, przestrzeni, natura e il tempo è proprio ciò che lega l'ordine al caos. Questa è la mia idea. Quindi il tempo lega l'ordine al caos. Questa è la mia idea che l'ordine al caos. Tra l'altro sono proprio riduce da una mostra che si intitola Tempo inedito, che è una personale a Roma presso Galleria Figlia. Tra l'ordine al caos. Come un tempo lega l'ordine al caos. E' la sua stazione colonna di Livio. In questo caso è il tempo lega l'ordine al caos. E' il tempo lega l'ordine al caos. E' il tempo lega l'ordine al caos. questo tempo, il tempo di inizio di questo secolo, che secondo me ci porteremo dietro per un bel po'. Il tempo, ovviamente, è in stretto regalo con la memoria, e gli oggetti che io utilizzo nei miei lavori sono oggetti di memoria. Lo stesso pannello fotovoltaico, o meglio, i frammenti di pannello fotovoltaico, sono degli oggetti di riuso. Inoltre, gli oggetti che io utilizzo nei pannello fotovoltaico, anche se le persone vedono circa elementi, sono alcuni elementi per cui abbiamo usato. E quindi interpretano proprio questo concetto di energia, che a mio avviso è molto circolare rispetto al tema della società. Inoltre, gli oggetti interpretano energie, tempo, energia. Esatto, tempo, energia. Certo, tempo, energia. Perché proprio il pannello, solare, cattura la luce e trasforma energia. Quindi, quando la spazio è la spazio, la spazio è la spazio, la spazio è la spazio. Quindi, questo è il fatto. Oltre a rispondere alla domanda, ci tenevo però molto a dire che il mio legame con la Polonia è molto stretto. Quindi, io non ho soltanto fatto diverse mostre qui in Polonia, ma posso forse dire che vivo tra Roma e Varsavia da circa 15 anni. E credo fortemente che ci sia un forte legame tra il popolo polacco e il popolo italiano. E questo per me è molto importante perché oltre che è artista ha una formazione in Italia sociologica. Grazie. 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 Grazie.